Non solo San Cataldo, ma anche a Frigole arrivano eventi per la stagione estiva 2021, che sembra essere ricca di manifestazioni per tutto il litorale leccese. A Frigole, nell'ultimo weekend del mese di agosto, farà tappa il campionato italiano di beach volley sulle strutture sulla costa del litorale nord della città di Lecce. Un'occasione importante di rilancio per tutta la marina e per tutte le strutture recettive di quella zona dell'Adriatico. Arriveranno oltre 300 atleti da tutte le parti d'Italia e anche il pubblico, come da norma nel DPCM, per darsi battaglia e conquistare la tappa salentina del campionato italiano di beach volley. Una grande opportunità per il rilancio di una marina che da sempre chiede di essere qualcosa di più per la città di Lecce.